Salve lettori compulsivi e non, io sono Lady Eileen e vi do il benvenuto sul mio canale. Oggi vorrei farvi ascoltare un estratto tratto dal romanzo La Donna in Nero di Susan Hill, edito Mondadori Oscar Volt. Capitolo 1. La Vigilia di Natale. Erano le 21.30 della vigilia di Natale. Mentre percorrevo il lungo atrio di Mog's Peace, allontanandomi dalla sala da pranzo, dove avevamo appena gustato il primo dei lieti pasti festivi, diretto al salotto e al caminetto attorno al quale la mia famiglia si era già sistemata, mi fermai un attimo e poi, come spesso mi capita di fare nel corso della serata, andai al portone d'ingresso, lo aprì e uscii. Ho sempre amato ispirare una boccata della sera, odorare l'aria, che abbia il profumo dolce aromatico dei fiori di mezz'estate, o che sia risopungente dai rughi e le foglie marce dell'autunno, o che crepiti dal freddo del gelo e della neve. Mi piace guardarmi attorno e verso il cielo sopra di me, che ci siano la luna e le stelle o il nero totale, e guardare dentro al buio davanti a me. Mi piace ascoltare le urla delle creature notturne e il vento che si alza e abbassa gemendo, o il picchiettare della pioggia sugli alberi da frutto. Mi piace la ventata che risale la collina e mi raggiunge dai pascoli piani della valle del fiume. Quella sera senti immediatamente e con il cuore sollevato che il tempo era cambiato. Per tutta la settimana precedente avevamo avuto pioggia, una pioggia gelida e una nebbia che si stendeva bassa attorno alla casa e sopra le campagne. Dalle finestre la vista non si allungava che di un metro o due sul giardino. Era un tempo orribile, che non pareva mai rischiararsi del tutto, e rigido anche. Non c'era alcun piacere nel passeggiare, la visibilità era troppo bassa per poter cacciare e i cani erano costantemente avviliti e infangati. Dentro casa le lampade rimanevano accese per tutto il giorno. I muri della dispensa, dell'annesso e della cantina trasudavano di umidità e avevano un odore acre, e i fuochi languivano e fumavano, bruciando desolatamente bassi. È ormai da molti anni che il mio muore viene eccessivamente influenzato dalle bizze del tempo, e confesso che, se non fosse stato per l'atmosfera allegra e affaccendata che regnava nel resto della casa, sarei stato prostrato dalla depressione e dall'apatia, incapace di assaporare appieno la vita come avrei dovuto, e infastidito dalla mia stessa suscettibilità. Ma, pizzicata appena dal tempo inclemente, Esmè non reagisce che con un animato sprezzo, e quindi i preparativi per le feste natalizie di quell'anno erano stati più ricchi e vigorosi del solito. Mi allontanai di un passo o due da sotto l'ombra della casa, in modo da potermi guardare attorno alla luce della luna. Monk's Peace si erge alla sommità di un terreno che si innalza dolcemente di circa 120 metri da dove il fiumicello Ni traccia il suo percorso sinuoso da nord a sud attraverso questa zona di campagna fertile e riparata. Sotto di noi ci sono pascoli, inframmezzati da piccoli sprazzi di alberi a foglia larga, ma alle nostre spalle, per svariati acri, c'è una zona piuttosto diversa di boscaglie e brughiera, una zolla selvatica nel mezzo di una regione ben coltivata. Distiamo solo due miglia da un villaggio di buone dimensioni, sette dalla principale città di mercato. Eppure c'è un'atmosfera remota ed isolamento che ci fa sentire molto più lontani dalla civiltà. La prima volta che vidi Monk's Peace fu durante un pomeriggio di piena estate, mentre facevo un giro in calesse con il signor Bentley. Il signor Bentley era stato il mio principale, ma negli ultimi tempi ero stato promosso, fino a diventare un socio nello studio legale dove avevo svolto il praticantato da giovane, e dove, a dire il vero, ero rimasto per l'interezza della mia vita lavorativa. A quell'epoca aveva più o meno raggiunto l'età in cui aveva iniziato a sentirsi propenso a lasciare che, poco a poco, le redini delle responsabilità scivolassero dalle sue mani alle mie. Anche se continuò comunque a recarsi presso i nostri uffici di Londra almeno una volta alla settimana, fino a quando morì all'età di 82 anni, ma stava diventando sempre di più un gentiluomo di campagna. Non era tipo da cacciare o pescare, ma si era calato, invece, nel ruolo di giudice di pace e amministratore della parrocchia, governatore di questo, quello e quell'altro consiglio, corporazione e comitato regionale e parrocchiale. Ero stato sia sollevato sia contento quando finalmente mi aveva reso un socio a pieno titolo al pari di lui, dopo così tanti anni. Anche se al tempo stesso ritenevo che la posizione non mi fosse altro che dovuta. Dal momento che avevo svolto la mia giusta parte di lavoro da Soma e sopportato un bel po' del fardello della responsabilità di traghettare le sorti dello studio senza, mi pareva, una ricompensa adeguata, se non altro in termini di posizione. E quindi si diede il caso che fossi seduto accanto al signor Bentley una domenica pomeriggio, godendomi la vista delle alte siepi di Biancospino, attraverso le campagne verdi e sonnacchiose, mentre lui lasciava che il suo pony imboccasse a passo lento la via del ritorno verso il suo maniero piuttosto brutto e troppo imponente. Era raro che me ne stessi seduto a fare nulla. A Londra vivevo per il mio lavoro, a eccezione di qualche ora libera trascorsa a praticare e collezionare l'acquerello. Allora avevo 35 anni e ne erano passati 12 da quando ero rimasto vedovo. Non trovavo alcun gusto nella vita sociale e, sebbene la mia salute in generale fosse buona, ero occasionalmente soggetto a disturbi nervosi, una conseguenza degli avvenimenti che andrò a raccontare. A dire la verità, stavo invecchiando ben prima del tempo. Un uomo austero e dall'incarnato pallido con un'espressione provata. Un cane mogio. Commentai con il signor Bentley la calma e mitezza di quella giornata. E lui, dopo un'occhiata di sbieco nella mia direzione, disse Dovresti pensare a comprarti qualcosa da queste parti. Perché no? Una bella casetta. Giù di là, magari. E indicò con la frusta verso il punto in cui un piccolo borgo se ne stava comodamente rincalzato dentro a un'ansa del fiume sottostante. I muri bianchi che si crogiolavano al sole del pomeriggio. Vieni via dalla città alcuni di questi venerdì pomeriggio. Dedicati alle passeggiate. saziati di aria buona, uova e panna fresche. L'idea aveva un suo fascino. Ma solo un fascino distante. Apparentemente strano a me. E quindi mi limitai a sorridere e inalai gli aromi caldi del fieno e dei fiori di campo. E guardai la polvere che veniva sollevata dagli zoccoli del pony lungo il vicolo e non ci pensai oltre. Non fino a quando, ovvero, raggiungemmo un tratto di strada che costeggiava una casa di pietra, lunga e perfettamente proporzionata, collocata su un'altura da cui si godeva di un'ampia veduta dell'intera valle del fiume. E poi ancora per miglia, fino alla linea blu-viola delle colline in lontananza. In quel momento fui colto da qualcosa che non saprei descrivere con precisione. Un'emozione, un desiderio. No, era ben più grande. Una consapevolezza, una semplice certezza, che mi avvolgeva. E talmente chiara e impressionante che, senza volerlo, urlai al signor Bentley di fermarsi. E arrestatosi a stento, saltai giù dal calessino nel vicolo e me ne rimasi su una cullinetta erbosa, rivolgendo prima gli occhi alla casa, così bella, così completamente adatta alla posizione che occupava. Una casa modesta, eppure sicura di sé. E poi guardando oltre, verso le campagne più in là. Non avevo alcuna impressione di essermi trovato lì prima di allora, ma l'assoluta convinzione che vi sarei tornato di nuovo. Che la casa fosse già mia, legata a me in modo invisibile. Su uno dei suoi lati c'era un torrente che fluiva tra le sponde verso il pascolo più in là, da dove tracciava il suo percorso tortuoso fino al fiume. Il signor Bentley ora mi guardava con aria curiosa dal calesse. Un posto notevole, disse. Annui, ma non essendo davvero in grado di trasmettergli anche un po' dei miei sentimenti estremi, gli diedi le spalle e percorsi qualche metro lungo la salita da dove riuscì a vedere l'entrata del vecchio frutteto incolto, che dal retro della casa si estendeva tra l'erba alta e un boschetto aggrovigliato sul lato più lontano. Oltre a isso, vidi il perimetro di un terreno aperto, dall'area rurale. La sensazione di convinzione che ho descritto continuava ad attanagliarmi, e ricordo che ne fui allarmato, poiché non ero mai stato un uomo fantasioso sognatore, e di certo non propenso a premonizioni per il futuro. In vero, dopo quegli avvenimenti passati, avevo evitato ogni tipo di riflessione su qualsiasi argomento, anche remotamente immateriale, e mi ero aggrappato al prosaico, al visibile e al tangibile. Ciò nonostante non riuscivo davvero a sfuggire all'idea. No, bisogna che sia più enfatico, alla consapevolezza certa che quella casa un giorno sarebbe stata mia, che presto o tardi, anche se non avevo idea di quando, ne sarei divenuto il proprietario. Quando finalmente lo accettai e lo ammisi a me stesso, sentì nello stesso istante che un profondo senso di pace a pagamento, come non ne avevo conosciuto da molti anni, si adagiava su di me, e fu a cuor leggero che tornai verso il calesse, dove il signor Bentley mi attendeva con non poca curiosità. La sensazione soverchiante che avevo provato a Monk's Peace rimase con me, anche se non in cima ai miei pensieri, quando lasciai la campagna quel pomeriggio per fare ritorno a Londra. Avevo detto al signor Bentley che nel caso in cui avesse sentito che la casa era in vendita, sarei stato smanioso di esserne informato. Qualche anno dopo lo fece. Contattai gli agenti il giorno stesso e poche ore più tardi, senza nemmeno tornare a rivedere la casa, feci una proposta e la mia offerta fu accettata. Alcuni mesi prima avevo conosciuto Esme Henley. Il nostro affetto, l'uno per l'altra, era aumentato con costanza, ma, visto che la mia natura indecisa per quanto riguardava tutte le questioni personali ed emotive continuava a essere una sorta di maledizione, ero rimasto zitto riguardo alle mie intenzioni per il futuro. Avevo abbastanza buon senso da interpretare la notizia su Monk's Peace come un buon presagio, però. E una settimana dopo che ero formalmente diventato il proprietario della casa, raggiunsi la campagna insieme a Esme e le chiesi la mano tra gli alberi del vecchio frutteto. Anche questa proposta venne accettata e poco tempo dopo ci sposammo e trasferimmo immediatamente a Monk's Peace. Quel giorno credetti davvero di essere finalmente emerso dall'ombra lunga proiettata dagli eventi passati, e vidi dalla sua espressione, e sentii dal calore della sua stretta di mano, che lo pensava anche il signor Bentley, e che era come se gli avessero sollevato un fardello dalle spalle. Si era sempre inculpato, almeno in parte, per quanto mi era successo. Era stato lui, dopo tutto, che mi aveva mandato a intraprendere quel primo viaggio fino a Crimeth in Gifford, a Ely Marsh House e al funerale della signora Drablow. Ma tutto ciò non avrebbe potuto essere più lontano dai miei pensieri, se non altro quelli consapevoli, mentre me ne stavo lì a prendere l'aria della notte sull'uscio di casa mia quella vigilia di Natale. Per circa quattordici anni, ormai, Monk's Peace era stata la più lieta delle case, casa mia e di Esmè, e dei suoi quattro bambini, nati dal suo primo matrimonio con il capitano Ely. Durante i primi tempi mi ci ero recato solo nei fine settimane per le vacanze, ma la vita e gli affari londinesi cominciarono a infastidirmi dal giorno in cui avevo comprato la casa, e fui davvero felice di ritirarmi in campagna in pianta stabile alla prima opportunità. E ora? Era in questa casa lieta che la mia famiglia era tornata a rifugiarsi per Natale. In un istante avrei aperto il portone e sentito il suono delle loro voci provenire dal salotto, a meno che non fossi bruscamente richiamato da mia moglie, preoccupata che mi buscassi un raffreddore. Di certo il tempo si era infine fatto molto freddo e limpido. Il cielo era trapunto di stelle e la luna piena bordata di un alone di gelo. L'umidità e la nebbia della settimana scorsa si erano dileguate come ladri nella notte. I sentieri e i muri di pietra della casa luccicavano pallidi e il mio respiro fumava nell'aria. Di sopra, nelle camere del solaio, i tre figli piccoli di Isabel, i nipoti di Esmè, dormivano, con le calze appese alle testiere dei letti. Non ci sarebbe stata neve per loro il mattino seguente, ma il Natale avrebbe, se non altro, sfoggiato un contegno luminoso e allegro. C'era qualcosa nell'aria quella notte, qualcosa, suppongo, che ricordavo dalla mia infanzia, insieme a una qualche sensazione che mi avevano trasmesso i bambini, che mi animava, vecchio come ero. Del fatto che la mia serenità mentale stesse per essere profanata e memorie che avevo ritenute morte per sempre si sarebbero risvegliate, non avevo, naturalmente, idea alcuna. Che dovessi rinnovare ancora la mia stretta conoscenza, anche se solo sotto forma di ricordi e sogni vividi, con la paura mortale il terrore dello spirito sarebbe parso, in quel momento, impossibile. Diedi un ultimo sguardo al buio gelido, sospirai contento, richiamai i cani ed entrai, prevedendo di fumare non più di una pipa e bere un bicchiere di buon whisky di malto vicino al fuoco scoppiettante, assieme all'allegra compagnia della mia famiglia. Mentre percorrevo l'ingresso ed entravo nel salotto, sentii un'impennata di benessere, del tipo che ho provato regolarmente durante la mia vita a Monk's Peace, una sensazione che conduce naturalmente a un'altra, una di profonda e sincera gratitudine. E in vero mi sentii grato quando vidi la mia famiglia raccolta attorno all'enorme fuoco che Oliver stava ravvivando proprio in quel momento, fino a fargli raggiungere un'altezza perigliosa e una fiamma divorante, grazie all'aggiunta di un altro grosso ramo di melo di un vecchio albero che avevamo fatto potare nel frutteto l'autunno precedente. Oliver è il maggiore dei figli maschi di Esmè e presentava, allora come adesso, una stretta somiglianza sia con sua sorella Isabel, seduta accanto al marito, il barbuto Obrey Pierce, sia con il fratello più prossimo a lui per età, Will. Tutti e tre hanno volti dall'aria inglese, bonari, semplici e aperti, inclini alla rotondità e con capelli, sopracciglia e ciglia di un castano chiaro, il colore dei capelli della madre prima che iniziasse a intrecciarsi con il grigio. All'epoca Isabel aveva solo 24 anni, ma era già madre di tre bambini e probabilmente ne avrebbe avuti degli altri. Aveva l'aria florida e appagata di una matrona e la tendenza ad accudire il marito e i fratelli, oltre che i figli. Era stata una figlia delle più giudiziose e responsabili, era affettuosa e garbata e sembrava aver trovato un compagno ideale nel calmo ed equilibrato Obrey Pierce. Eppure ogni tanto sorprendevo Esmè a guardarla pensierosa e più di una volta avevo espresso, anche se sommessamente e a me soltanto, il desiderio che Isabel fosse un po' meno compassata, un po' più animata, addirittura frivola. In tutta onestà non potevo augurarmelo. Non mi sarei mai augurato che qualcosa increspasse la superficie di quel mare calmo e imperturbato. Oliver Ainley, all'epoca diciannovenne, e suo fratello Will, minore solo di 14 mesi, erano giovani uomini similmente seri e sobri nel profondo del cuore, ma al momento godevano ancora di tutta l'esuberanza dei cuccioli. E in vero mi pareva che Oliver dimostrasse ancora troppi pochi segni di maturità per un giovane che frequentava il primo anno a Cambridge e destinato, se i miei consigli avessero finito per attecchire, a una carriera legale. Will giaceva disteso sulla pancia davanti al fuoco, il volto acceso, il mento poggiato sulle mani. Oliver sedeva lì vicino e di quando in quando le loro gambe lunghe si aggrovigliavano in una zuffa, un calciare e spintonare accompagnato da risate fragorose. Come se, per quanto li riguardava, avessero di nuovo dieci anni. Il più giovane degli Enley, Edmund, sedeva un po' in disparte isolandosi com'era sua natura da tutti gli altri. Non per scontrosità o cattivo umore, ma a causa di un'innata scrupolosità e riservo. Un desiderio di rimanere in qualche modo sulle sue, cosa che l'aveva sempre distinto dal resto della famiglia di Esmè, proprio come era diverso dagli altri nell'aspetto, visto che aveva l'incarnato pallido e il naso lungo, con capelli di un nero straordinario e gli occhi blu. Edmund aveva 15 anni allora. Era quello che conoscevo meno pene. Lo comprendevo a malapena. Mi sentivo a disagio in sua presenza. Eppure, forse, in modo strano, lo amavo più profondamente degli altri. Il salotto di Monk's Peace era lungo e dal soffitto basso, con alte finestre sui due lati, che in quel momento avevano le tende tirate, ma che di giorno lasciano entrare un bel po' di luce sia da nord sia da sud. Quella sera, festoni e ghirlande di foglie fresche, che Esmè e Isabel avevano raccolto nel pomeriggio, stavano appesi sopra il camino di pietra e, intrecciate al verde, c'erano bacche, nastri, scarlatti e oro. All'altro estremo della stanza stava l'albero, decorato e illuminato da candele, e sotto a esso erano accatastati i regali. C'erano anche dei fiori, vasi di crisantemi bianchi, e al centro della sala, su una tavola rotonda, una piramide di frutti dorati e un vassoio di arance interamente picchiettate di chiodi di garofano. E il loro profumo speziato riempiva l'aria e si mescolava quello dei rami e del fuoco di legna, diventando così l'autentico aroma del Natale. Mi sedetti sulla mia poltrona, la ritirai un po' dal bruciare impetuoso del fuoco e iniziai l'operazione prolungata e rassicurante che è l'accensione di una pipa. Nel farlo mi resi conto che avevo interrotto gli altri nel bel mezzo di una conversazione animata, e che almeno Oliver e Will erano ansiosi di proseguire. Beh, dissi, da dietro le prime, caute boccate al mio tabacco. Che succede qui? Ci fu un'ulteriore pausa, ed Esmè scosse la testa, sorridendo da sopra il suo ricamo. Su! Poi Oliver si alzò in piedi e cominciò a fare il giro della stanza rapidamente, spegnendo tutte le lampade, a eccezione delle luci sull'albero di Natale all'altro lato della sala, in modo che, quando fu di ritorno al suo posto, non ci rimase che l'immediata luce del caminetto per poterci vedere l'un l'altro. Ed Esmè fu obbligata a mettere da parte il suo cucito, non senza un mormorio di protesta. Tanto vale fare le cose fino in fondo, disse Oliver con una certa soddisfazione. Ah, voi ragazzi! Su, dai, Will, tocca a te, no? No, a Edmund! Ah ah, disse il più giovane dei fratelli Enli in una voce strana, gutturale. Oh, potrei, ma se lo facessi... dobbiamo proprio tenere le luci spente. Isabel parlava come rivolta a ragazzini molto più giovani. Sì, sorellina, dobbiamo, almeno se vogliamo avere un'atmosfera autentica. Ma non credo di volerlo. Oliver emise un gemito soffocato. Che qualcuno continui allora! Esmè si sporse verso di me. Stanno raccontando storie di fantasmi. Sì, disse Will, la voce rotta sia dall'eccitazione sia dal riso. Proprio quello che ci vuole per la vigilia di Natale. È una tradizione antica. La casa di campagna solitaria, gli ospiti stretti intorno al focolare in una stanza buia, il vento che ulula fuori dalle finestre. Oliver gemette di nuovo. E poi si alzò la voce imperturbabile e gioviale di Obri. Meglio cominciare allora! E così fecero, con Oliver, Edmund e Will, che facevano a gara per raccontare la storia più orrida e raggelante, con abbondanza di effetti drammatici e urla finto terrorizzate. Si superarono a vicenda nel raggiungere i più lontani estremi dell'inventiva, snuzzolando agonia su agonia. Raccontarono di mura di pietra che grondavano sangue dentro a castelli abbandonati, e di rovine di monasteri ricoperte d'edera alla luce della luna. Di segrete chiuse a chiave e prigioni nascoste, ossari malsani e cimiteri trascurati, di passi che screcchiolavano sulle scale e dita che bussavano alle finestre, di ululati e grida, lamenti e strusci furtivi e sferragli di catene, di monaci incappucciati e cavalieri senza testa, foschie vorticose e venti improvvisi, spettri incorporei e creature avvolte in un lenzuolo, vampiri e segugi, pipistrelli, ratti e ragni, gli uomini ritrovati all'alba e donne dai capelli improvvisamente bianchi assolutamente dissennate, e di cadaveri scomparsi e maledizioni sediscendenti. Le storie si fecero più e più raccapriccianti, ardite e sciocche, e presto i sussulti e le grida si mescolarono a raffiche di risate strozzate, mentre ciascuno, anche la mite Isobe, contribuiva con degli altri dettagli macabri. Sulle prime fui divertito, indulgente, ma mentre continuavo a sedere ascoltandoli alla luce del caminetto, iniziai a sentirmi distinto da tutti loro, estraneo al loro circolo. Stavo cercando di sopprimere l'angoscia che montava, trattenere la marea crescente della memoria. Spero che quest'assaggio di lettura vi sia piaciuto. Per scoprire come procederà la storia, non vi resta che leggere il libro. Se volete che legga un estratto di uno dei vostri libri preferiti, o c'è una voce maschile che ha voglia di collaborare con me, scrivetemi nei commenti o su miei social. E ricordate, per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere. Michel Foucault. Alla prossima, ciao!